Sono eterodosso a tutta quell'arte o scrittura che viene imposta e subita dalla maggioranza mostruosamente creativo, onnivoro. D'ogni disciplina ad oltranza non mi servono le mediazioni, non voglio essere ingabbiato, né giudicato o perdonato. Non sono assoggettabile, a ordini, comandi o accompagnatori di valori li riconosco da me. Non sono cieco, mai stato blasfemo, condannato o assolto. Ho sempre vissuto di vita mia, non ho aggiunto mai quella degli altri, mai l'ho copiata, comprata o rivenduta. Non sono stato mai conformista altruista, si troppo spesso fregato, altro che. Sono spesso divampato, copiato, sfruttato, senza saperlo. Ma poco mi frega, di ciò dalla cenere sono rivissuto. Questo conta molto di più. Caro Gesù bambino, vorrei tornare piccino, postmoderno, ovvero nella condizione antropologica e culturale, e alla crisi conseguente all'asserrito tramonto della modernità nelle società del capitalismo maturo in contrasto con il carattere utopico e con la ricerca del nuovo, del bello, l'avanguardismo tipico dell'ideologia modernista. Un peggior bambino postmoderno, caratterizzato dalla volontà di far rileggere la storia dell'arte, e non solo definitivamente sottratta a ogni finalismo, ma anche in cui ci sia il desiderio smodato d'essere artista, disoccupato dalla citazione o riuso, spregiudicato del senso con la parola in forma di chiacchiere, un'unica residua distinzione tra la cultura del prodotto artistico alto o basso di massa, insomma un postmodernista che capisca nemmeno ciò che voglia significare la parola, ma che rivela strada facendo una moltiplicità stilistica valente che faccia riscoprire ad ognuno dei suoi fruitori valori sentimentali e passionali, liberatori, insomma una rivoluzione o evoluzione in senso popolare, rappresentativo, non autoreferenziale aperto ad interferenze culturali di tipo pratico e mutuo, una sorta di pensiero forte del debole che ha preso atto della dissoluzione della società ricca e ne ha fatto un sentimento di pietas nei confronti degli ideali della sottrazione, credo di essermi spiegato bene e se così non fosse non saprei esprimermi diversamente, sono in flusso continuo, non nozionistico né spettacolarizzato, c'è solo una ferrea volontà da parte mia come spirito d'artista di andare oltre i vari sperimentalismi, pur essendo consapevole che forse ci sarà ravvisabile da qualche parte qualche concetto da sviluppare e associare al deja vu, privo d'originalità, ma ciò che si sta verificando è proprio ora, in questo istante, una narrazione espressiva, libera dell'io, che ho lasciato andare a puttana.